Va via la macchina, al comando delle operazioni c'è Rosalina Griff alle prese con Rienda Suelta e poi Radar Horse, quindi in avanti Rienda Suelta, poi Radar Horse dietro, ancora Rosalina Griff e poi Rivombrosa OM. In avanti Rienda Suelta, Radar Horse dietro, poi ancora Rosalina Griff, quindi Rivombrosa e poi Rally Kronos. In avanti Rienda Suelta, poi Radar Horse in seconda posizione, ancora Rosalina Griff e quindi il numero 2 di Rivombrosa OM. In avanti sempre e comunque è il numero 4 di Rienda Suelta, Radar Horse sempre in seconda posizione, in terza è sempre Rosalina Griff, poi Rivombrosa OM. Rienda Suelta che controlla, c'è sempre Radar Horse attaccato dietro, l'intervallo viaggia il numero 3 di Rosalina Griff e poi il numero 2 di Rivombrosa. Rienda Suelta in avanti, poi c'è il favorito Radar Horse che ora sposta, viene via, si distende Rienda Suelta e quindi Radar Horse ripiega un attimino. Ancora Rosalina Griff ad intervallo con Rivombrosa, cavalli che stanno per entrare sull'ultima curva con Rienda Suelta. Ancora Radar Horse a largo, ancora Rosalina Griff alle prese con Rivombrosa OM. In avanti è Rienda Suelta, poi Radar Horse, Rienda Suelta che controlla la situazione, Radar Horse sempre dietro, a largo ci prova Radar Horse a impensierire, Rienda Suelta. Cavalli che entra in retta d'arrivo con Radar Horse, Rienda Suelta le prese, Rienda Suelta, Radar Horse, Rienda Suelta e Radar Horse. Rienda Suelta che nel tratto conclusivo riesce a vincere Radar Horse, al secondo posto, al terzo posto nel finale c'è il numero due di Rivombrosa.